Ecco a voi le famose porpettine di San Marcello Pistoiese, da non imbrogliarsi con quelle che fanno alla betone. Alla betone non le sanno fare, perché solo noi ci si infila dentro la mano di tegama a bollore, perché ci fa una sega in mestolo, noi si fa direttamente con le mani, l'erce. Poi mi raccomando, pulissi ai bordi di tegama e diti, ecco così, che specialità. Queste sono le vere porpettine di San Marcello Pistoiese, fatte con l'olio preso nell'acqua della lima. Della lima, sanno una sega alla betone come si fa affare, sanno una sega nel Reno, nella valle di Reno come si fa affare le forpettine con le mani, l'erce.